Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove in direzione Livorno ci sono due chilometri di coda per lavori tra Empoli e San Mignato. Sempre verso Livorno, code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze, code a tratti tra Scandici e Firenze-Scandici. In A1, code tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti tra Incisa-Reggello e Firenze Sud sempre verso Bologna. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla statale Trebbis-Tiberina è stato riaperto il viadotto Puleto ai soli veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate e su una sola corsia per ogni senso di marcia con velocità massima a 50 km orari. Per la viabilità cittadina si ricorda che a Firenze il servizio della linea T2 della tramvia resterà gratuito fino al 24 febbraio. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!